Ben trovati cari amici e appassionati di storia e strategia militare qua sul canale Storia della Seconda Guerra Mondiale. Oggi continuiamo la nostra serie sui radar, quindi sull'ingegneria dei radar, e riprendiamo inizialmente tutto il discorso sulla storia di questa tecnologia per poi cominciare ad accennare ad alcune categorie di radar, facendovi vedere a grandi linee a che cosa possono servire e in quali campi si applica questa tecnologia, per poi accennare a qualche breve rudimento molto basilare di fisica che andremo poi ad ampliare successivamente nelle prossime puntate. Quindi, fatta questa breve introduzione spoiler, direi di cominciare con la nostra spiegazione. Innanzitutto partiamo proiettando un'immagine che sicuramente conoscete tutti quanti voi, cioè la bomba V1. Allora, devo solo impratichirmi un attimo, questa volta fortunatamente ho scaricato le immagini. Questa è appunto una V1. In particolare si tratta di un primo tipo di missile da crociera, che faceva parte del progetto Vengeance tedesco, quindi era parte di un progetto, diciamo, di ritorsioni nei confronti dell'Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra voi, ciao Andrea Ronchetti, ho guardato i tuoi video, sono molto carini, sto andando avanti a recuperarli, stai facendo un bel lavoro, bravo. Tornando a noi, questa V1 fu, diciamo, il primo missile da crociera della storia, se vogliamo. Era propulso da uno strato reattore, che potete vedere qua sul retro, e ha alcune caratteristiche tecniche, che misero e diedero molto filo da torcere alla difesa antiaerea inglese. E poi vi farò vedere un sito molto interessante dove potete andare a recuperare tutti i dati sui bombardamenti su Londra e vedrete una cosa che veramente farà brividire. La nostra V1 aveva un sistema di propulsione a strato reattore, quindi cercherò di rifarvi di nuovo il file su OneNote, così potete andare nel gruppo Telegram a recuperare tutto quanto. Abbiamo il V1 missile da crociera. Ora vi proietto la schermata di OneNote. Quindi condividi schermo, finestra. Ok, ci siamo. Missile da crociera. Abbiamo innanzitutto uno strato reattore. Poi la velocità di crociera è parecchio elevata e questo poneva una seria difficoltà alle contraeree inglesi. Infatti parliamo di 390 miglia all'ora. L'altitudine di queste V1 comportava in un secondo luogo un altro problema, perché parte appunto dai due piedi quando viene lanciato per arrivare fino ai 3000 piedi. Quindi se siete un attimo pratici dell'ambito aeronautico non sono delle elevazioni enormi. Quindi è anche un problema ad andare ad operare in queste situazioni. Abbiamo un'autonomia di 250 chilometri dal punto di lancio, una guida che questa volta è fatta da un girobussola ad autopilota, quindi non ha bisogno di avere un pilota a bordo. Quindi per i tedeschi diciamo che fa risparmiare vite di piloti, causando grandi danni comunque all'Inghilterra. Poi, come se non bastasse, abbiamo una bella testata da 850 chilogrammi di alto esplosivo, che si scrive ovviamente a CAE. Gli appassionati di carri armati sapranno benissimo. Abbiamo durante la Seconda Guerra Mondiale 9000 V1 lanciate e 2400 su Londra. Ora cerco di proiettarvi... Ciao Fabrizio! Cerco di proiettarvi la mappa di Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, che è una specie di Orix, è un sito fatto benissimo sui bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e vedrete che c'è di che mettersi le mani nei capelli. Allora, fatemi passare un attimo di là. Questo qua, ecco. Si chiama Bombsite, vi metto il link in chat, così chi è interessato può andare a vedere. Dovrei averlo postato in teoria. Ed ecco, se andiamo a zoomare sulla città di Londra, vi rendete conto che ogni pallino corrisponde a un bombardamento, a una bomba caduta. E ci rendiamo conto che anche, diciamo, a distanza di isolati, veramente la città fu martoriata da questi bombardamenti di vario genere, che siano V1, che siano V2, che siano bombardamenti convenzionali della Luftwaffe, fu veramente una carneficina. È il bello di questo sito che andando a cliccare sul bombardamento, vi linka tutte le fonti a riguardo e se ci sono anche delle immagini del tempo. Per ogni bombardamento accade. Qua sotto avete le fonti e qua avete le immagini, qua avete tipo dei documenti che ne parlano. È un lavoro veramente geniale per gli appassionati di storia militare. Comunque, torniamo a noi, al nostro discorso sul radar senza divagare troppo. Questi sono quindi i dati delle nostre V1. Un problema veramente serio da gestire per le difese inglesi. E che cosa accade? Come posso distruggere le V1? Ebbene, nella scorsa puntata, se vi ricordate, abbiamo accennato a un sistema radar chiamato SCR 584. Lo SCR 584 fu sviluppato dal MIT ed è divenuto il principale radar FCR, quindi Fire Control Radar degli anni 50. Prima lo era già durante la Seconda Guerra Mondiale, riscosse così tanto successo che diventa appunto il radar principale per quanto riguarda quindi la parte del blocco occidentale come radar nel post-guerra. Come viene abbinata questa piattaforma radar? Faccio di nuovo vedere qualche piccola fotografia. Quindi vado un attimo a reperire le immagini abbiamo innanzitutto dov'è che l'ho messa mannaggia a me allora e questa qua proprio lei quindi devo chiudere le altre foto e proiettarvi solo questa condividi schermo e ci siamo questo rimorchio da camion è la base dello SCR 584 abbiamo innanzitutto sopra un'antenna direzionale per il radar e dentro tutto il sistema di trasmissione e ricezione questo SCR 584 ha delle caratteristiche specifiche ora passiamo di nuovo al tablet così che descrivo il nostro SCR 584 ha innanzitutto una lunghezza d'onda che abbiamo detto scriversi con la lettera greca lambda di 0,1 metro quindi 10 cm opera sulla banda S poi tranquilli vedremo poi anche tutta la classificazione dello spettro elettromagnetico e le varie bande su cui andiamo ad operare con i radar e le caratteristiche di ogni banda abbiamo quindi ovviamente una frequenza che è pari a 3 megahertz 3 megahertz un magnetron quindi quel specifico tubo a vuoto di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata che è alla base appunto del sistema e il modello è il modello è lo 2 J 132 una potenza al picco tranquilli dopo vedremo bene tutti questi parametri che cosa significano una potenza al picco di 250 kilowatt quindi notate già quanta potenza richiede un apparecchio simile abbiamo un'ampiezza dell'impulso impulso che è pari a 0,8 microsecondi un PRF che è di 1707 hertz un'antenna che è di diametro di 6 piedi un'antenna che ha un raggio d'osservazione di 4 gradi quindi il fascio va a intercettare un'area di 4 gradi quindi fascio uguale 4 gradi la copertura asimuth per dirvela in breve quando si parla di radar si parla di angoli in elevazione e il brandeggio quello che solitamente chiamiamo brandeggio si parla di asimuth siccome come abbiamo visto prima l'antenna posta sul tettino è un'antenna girevole la nostra copertura asimuth scusate ho sbagliato a scrivere dannazione è di 360 gradi ovviamente abbiamo una portata massima quindi quella che in inglese si chiama il range che è di 40 miglia quindi già una buona portata su un bersaglio che è un aereo perché ovviamente quando andiamo ad esprimere la portata di un sistema radar ci riferiamo sempre a un dato oggetto e quindi alla sua rcs la nostra cross section cose che vedremo poi nello specifico in puntate tutte a parte abbiamo un'accuratezza quindi in asimuth che è pari a 0,06 gradi una buona accuratezza accuratezza elevazione siamo sempre sui 0,06 gradi quindi capite che è un sistema parecchio preciso negli stessi anni del nostro SCR 584 si va a sviluppare una spoletta di prossimità perché ci si accorge di una cosa molto importante per distruggere un velivolo che sia un aereo o anche dei bersagli a terra perché questa cosa verrà riportata anche su bersagli a terra non è necessario penetrare per forza il bersaglio quindi non è necessario penetrare un aereo con un colpo solido per tirarlo giù anzi spesso funziona tanto tanto meglio arrivare di vicino con una testata ad alto esplosivo e farla detonare prima che la testata in sé impatti con l'aereo quindi serve qualche sistema per rilevare la prossimità al bersaglio e in Inghilterra viene implementato il sistema di spolette V53 ora vi mostro una foto della spoletta V53 e poi andremo un attimo a vedere tutte le specifiche di questo sistema di spolette ora datemi solo tempo che vado a ripescare la foto qua in archivio eccola qua ora ve la presento questa è una spoletta modello 53 vedete che alla punta abbiamo l'antenna poi dopo abbiamo tutta una serie di meccanismi e batterie che appunto grazie a un sistema radar vanno a rilevare la prossimità e far detonare poi dopo la nostra carica HE contate che la spoletta è quella parte che è messa in cima per chi lo dico per chi non è pratico di proiettili d'artiglieria è quella parte messa in cima al nostro colpo a quello che volgarmente viene detto come bomba in punta viene posta questa spoletta è proprio la punta quella molto appuntita che vedete quindi la parte che vedete sotto la testina conica è avvitata dentro il nostro colpo e fuori traspare solo la parte che in realtà nella parte sotto è colore ottone e sopra è nera questo è uno spaccato che vi spiega tutte le parti al suo interno ma ci potremo poi tornare quando vedremo poi bene come funziona il radar nei particolari e quindi avremo poi gli strumenti per analizzare tutti questi componenti e come funziona una spoletta di prossimità ora torniamo un attimo alla nostra spiegazione sul tablet quindi passiamo qua ok funziona tutto e parliamo di questa spoletta la spoletta modello 53 opera su una frequenza di 200 megahertz usa l'effetto doppler del segnale emesso per scovare il bersaglio ora ve lo accenno poi a fine video spiegheremo come funziona l'effetto doppler se avete mai fatto caso sicuramente quando sentite in lontananza arrivare una macchina di pulizia con le sirene spiegate o un'ambulanza sentite che varia molto la frequenza del suono lo sentirete molto più grave e poi a seconda della sua velocità e di dove si trova lo sentirete sentirete variare quindi più acuto e poi più grave questo si chiama effetto doppler accade con le onde acustiche e accade anche con le onde elettromagnetiche poi spiegheremo bene il perché accade questa cosa quindi sfruttando l'effetto doppler basti sapere per ora che un radar riesce a rilevare la velocità del bersaglio e capire anche a quale distanza si trova da quel bersaglio quindi quando praticamente azionare l'innesco dell'esplosivo quindi bisogna innanzitutto scovare il bersaglio in movimento quando viene oltrepassata una certa soglia pre-programmata avviene la detonazione quindi distruzione del bersaglio non per contatto ma per prossimità quindi spoletta quindi notate bene che abbiamo già due sistemi uno l'OSCR 584 che ci permette di vedere più o meno dove si trova la nostra AV1 in avvicinamento e poi abbiamo già una spoletta che riesce a rilevare dove si trova questa AV1 ed esplodere al momento giusto quindi quello che manca a questo punto della storia è come creare il sistema d'arma che passi dati presi dal radar SCR 584 a una batteria antiaerea che spari un colpo predicendo la traiettoria della nostra AV1 e mandare verso questa V1 appunto un colpo ad alto esplosivo con spoletta di prossimità quindi abbiamo delle necessità tecniche per la spoletta quindi delle necessità ingegneristiche innanzitutto dobbiamo creare una spoletta che resista ad accelerazioni piuttosto considerevoli siccome il colpo innanzitutto deve essere sparato quindi accelerato tantissimo e resistere a molti G quindi resistere a molti G di accelerazione poi bisogna emettere in continuo un'onda quindi questo radar ha un duty cycle al 100% come si dice tecnicamente quindi emettere in continuo quindi dovrà avere tutto un suo set di batterie che permettano appunto alla trasmittente di operare poi deve avere anche qualche meccanismo necessario per elaborare il doppler quindi farsi i conticini e quindi essere in grado di esplodere prima di colpire quindi che cosa accade nel 1944 viene finalmente terminata la progettazione del sistema d'arma il sistema d'arma come abbiamo detto è formato innanzitutto dal nostro SCR584 a cui è collegato il gun predictor poi vedremo alcune foto generalmente M7 e M9 gun predictor questo è un macchinario piuttosto grosso che ha il compito di svolgere una mansione da pseudocomputer in pratica predire siccome sappiamo che il nostro proiettile antiaereo metterà del tempo prima di raggiungere la V1 in questo tempo la V1 si sarà spostata deve appunto cercare di mirare correttamente il nostro pezzo antiaereo per poter anticipare la traiettoria della V1 altrimenti la colpisci 100 metri indietro e non vai a segno quindi il nostro M9 ha questo ruolo qua di dare la mira alle nostre batterie antiaeree i pezzi antiaerei che abbiamo sono o il Brightish 3.7 inch oppure la batteria americana M90 artiglieria di solito M1 poi dopo M2 ed M3 che sparano entrambe colpi col V53 3 ora vediamo un attimo un paio di foto così potete anche avere un attimo un'idea di come fosse il nostro sistema d'arma quindi passiamo un attimo alle foto datemi solo qualche secondo per andare a reperire quindi innanzitutto vi faccio vedere una batteria condividi finestra ok questo è un SCR 584 sul campo di battaglia vedete che ha la sua bella antenna posizionata qua sopra e questo è praticamente una stazione 584 dispiegata poi se passiamo oltre con le foto questa è una spoletta molto un'evoluzione della M53 che venne poi utilizzata poi negli anni 70 80 sui colpi di artiglieria antiaerea una spoletta di prossimità quindi vedete più o meno com'è fatta diciamo che super giù è lunga una ventina di centimetri in altezza non è nemmeno enorme come può sembrare ma appunto è solo la punta del nostro colpo questo è un M7 GAM Predictor quindi questo è collegato direttamente al nostro SCR 584 e e poi dopo va ad essere collegato con le nostre batterie antiaeree questo qua è il modello M7 del GAM Predictor poi volgendo avanti troviamo una batteria americana da 90 millimetri di artiglieria antiaerea questa è la batteria britannica da 3,7 pollici ed eccoci qua scusate questa foto ci fa vedere parte del sistema d'arma infatti in lontananza se prendete sopra il centro foto vedete che ci sono questi soldati seduti un po' più in su della batteria antiaerea ebbene questi soldati stanno operando il GAM Predictor il modello M9 tra l'altro durante un'esercitazione nel 1943 questa è una batteria da 90 millimetri e questo praticamente è quanto ora passiamo oltre no scusate condividi schermo torniamo di nuovo qua e vediamo un attimo di tirare le somme e di che cosa riesce e riusci a fare questo sistema d'arma perché appunto fu una cosa del tutto quasi rivoluzionaria infatti come abbiamo detto il GAM Predictor prende i dati dall'OSCR 584 predice quindi la traiettoria della V1 e spara che cosa accade che grazie a questa implementazione della tecnologia radar nell'utilizzo antiaereo il kill rate delle V1 schizzò immediatamente al 75% quindi su 100 V1 lanciate 75 venivano abbattute è una cosa un notevole risultato militare pensiamo ora quando ci riferiamo alla guerra in Ucraina e i russi ti lanciano 10 missili e gli ucraini ne tirano giù 7 e questi sono successi di un certo livello ecco con questo sistema qua a fine guerra in alcuni scenari il kill rate salì addirittura al 97% con le V1 fu una cosa del tutto rivoluzionaria l'impatto che ebbe il radar durante la seconda guerra mondiale e siccome siamo italiani vi ricordo una cosa ad Anzio fu utilizzato uno SCR 268 per con un sistema d'arma simile per colpire i bombardieri della Lusfaffe però i tedeschi riuscirono a giammare questo questo radar perché non riuscirono a capire su quale frequenza operava quindi a questo punto venne inviato sul fronte di Anzio un modello 584 dell'OSCR che fu interrato lasciando solo l'antenna sopra il livello del suolo che cosa accade questo venne abbinato a delle batterie da 90 millimetri e un gun predictor M9 per distruggere i bombardieri nazisti nella prima notte furono inviati nella prima notte di operazioni di questo sistema furono inviati 12 bombardieri nazisti e guardate a caso questo sistema riuscì a tirarne giù 7 e queste cose fanno male all'aviazione perché insomma non voli più tranquillo quando ti succede una roba simile i tedeschi aspettarono una settimana e inviarono un solo bombardiere che fu nuovamente distrutto nella notte da questo punto in poi i tedeschi smisero di inviare bombardiere in quella zona perché capirono che era meglio lasciar perdere quindi capiamo subito l'impatto che ha il radar in un conflitto militare ora passiamo lasciamo più o meno l'ambito storico anche se ci sarebbe altro da dire ma vedremo poi nelle varie puntate come si è evoluta la tecnologia facendo scendi qua e là e cominciamo a parlare di questioni tecniche affrontiamo il problema un attimo da lontano per capire quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi di una tale tecnologia quindi inizierei facendo uno schemino vantaggi del radar allora il radar è l'unico sistema che riesce a scovare obiettivi a lunga distanza e in qualsiasi fino a qualche migliaio di chilometri quindi grande raggio d'azione possiamo scrivere fino a mille e mille chilometri sono piuttosto tanti il radar ha un'altra cosa molto interessante opera sotto qualsiasi condizione meteorologica e di luminosità all'inizio quando abbiamo siamo partiti con la scorsa puntata abbiamo parlato dei dispositivi di diciamo rilevazione sonora ecco questi sono molto molto dipendenti comunque dalle condizioni meteo da come si muove il vento se c'è un temporale nel mezzo e anche i sistemi ottici perché questi sistemi sonori devono essere per forza abbinati a qualche uomo con un cannocchiale che guarda il cielo quando di notte ai tempi in cui i visori termici non erano cosa eh usuale eh accadeva che eh i sistemi non potevano più funzionare a meno che non si abbinavano con dei megafari che proiettavano un fascio molto ristretto senza poter scrutare tutto l'orizzonte nel giro di pochissimi secondi quindi ogni condizione ogni condizione meteo è di luminosità abbiamo un altro vantaggio il radar come abbiamo detto ti scruta un'ampia area anche a 360 gradi nel giro di pochi secondi quindi a differenza dei sistemi sonori che devono stare comunque in ascolto eh per parecchio tempo prima di potersi girare e altri e tra l'altro sono pure fissi il radar ha il vantaggio specie nei modelli più moderni di poter scrutare tutto l'orizzonte nel giro di qualche millisecondo e la cosa interessante dei radar moderni mannaggia chiudo la finestra perché sennò tra un po' mi esplode tutto col vento che c'è scusate se operiamo come vedremo poi nella serie appunto quando cominceremo a parlare un po' di fisica e matematica e ingegneria se mandiamo dei pacchetti di dati coerenti quindi per dirvela in soldoni ma proprio malamente poi spiegheremo bene ma è giusto per non complicarvi la vita se mandiamo tre bip di radar consecutivi molto vicini e uguali tra loro riusciamo a fare delle cose molto interessanti quindi pacchetti se operiamo con questi pacchetti coerenti riusciamo innanzitutto a fare un rilevamento simultaneo dei bersagli scarto il background e interferenze quindi riesco subito a schermare i rumori di fondo quindi rilevamento simultaneo e quindi scarto scarto il background perché siccome avrò tre segnali emessi e tre risposte potrò scartare le risposte non coerenti tra le tre diciamo quindi tutto quello che è rumore di fondo è un'altra cosa molto bella che si riesce a fare se si opera in questa maniera è fare un imaging del bersaglio molto veloce quindi sia in fixed che in moving state tranquilli con i termini perché la serie sarà parecchio articolata e vedremo tutto in terzo luogo il fascio si muove velocemente in pochi microsecondi grazie alla scansione elettronica quindi scruto molto velocemente parliamo di microsecondi scusate sono diventato scemo in ultimo luogo abbiamo una cosa che è tra le più importanti dei vantaggi perché abbiamo la possibilità di variare la forma del fascio il fascio emesso dalla trasmittente ha diciamo una forma ben definita nello spazio inviando più pacchetti coerenti riesco a mettere anche in fase dei segnali e cambiare la forma del fascio per avere più o meno accuratezza e questo permette di calmierare le interferenze e il jamming nemico quindi interferenze e jamming nemico questi sono a grandi linee i vantaggi del radar poi poi dobbiamo ricordare un ultimo punto del vantaggio di utilizzare onde elettromagnetiche cioè avere perdite relativamente minime sul segnale abbiamo abbiamo una linea di propagazione quasi retta quindi di propagazione con se operiamo con le microonde però con quei radar non ci fate cuocere il pollo e non ci scaldate la pasta quali sono però gli svantaggi del radar perché sappiamo che in guerra ogni arma ha dei vantaggi e degli svantaggi associati quindi vediamo gli svantaggi i rilevamenti a lunga distanza richiedono delle cose molto brutte innanzitutto c'è bisogno di avere delle antenne grosse e pesanti e questo ha un problema serio dal punto di vista militare perché un'antenna grossa enorme pesante quando parlo di un'antenna grossa vuol dire un'antenna più grossa di un palazzo per capirci poi vi posso poi mettere dei link ad esempio a delle vecchie installazioni come quella vicino alla stazione di cernobil in ucraina e altre vecchie antenne sovietiche o americane dismesse antenne radar che sono mostruose quindi non è roba che puoi imbarcare facilmente anche portare dall'altra parte del mondo o spostare durante una guerra sono cose che logisticamente sono piuttosto fisse un altro problema è che per operare a grande distanza serve una trasmittente quindi un tx ad alta e quando parlo ad alta potenza alcune possono arrivare al megawatt quindi giusto per capirci torniamo all'esempio la potenza al picco a casa vostra può arrivare a 3 kilowatt qua stiamo parlando di potenza al picco che vanno fino a un megawatt quindi ti serve praticamente una centrale elettrica ambulante che ti segua quindi abbiamo alti consumi energetici e abbiamo anche delle spese di mantenimento piuttosto consistenti quindi costa caro e questo è un primo svantaggio ora abbiate solo pazienza che chiudo la finestra dall'altra parte perché c'è un vento un temporale enorme un temporale a celle come abbiamo detto nella live sul meteo che sta muovendo delle masse d'aria enormi datemi solo 5 secondi che scappo e torno subito a a Grazie. Rieccomi qua, scusate per l'interruzione. Eravamo arrivati al primo punto degli svantaggi, poi se ci pensiamo bene, i radar hanno anche altri svantaggi, perché le onde elettromagnetiche si propagano piuttosto male in alcuni mezzi. Quindi, passiamo sotto ad esempio qua, i fasci si propagano male nel suolo, quindi sotto terra. Quindi tutto quello che suolo va a schermare i radar e quindi pensate, ad esempio, se ho delle truppe, vabbè, sotto terra non le vedrò, ma se è un radar che dà su una collina, la parte dietro sarà in zona d'ombra. Io non vedrò che cosa accade dietro questa collina. Sott'acqua il radar va pure maluccio. Quindi Acqua. Altro problema del radar con alcune frequenze. Quindi se parliamo di roba sui cento, sulle centinaia di megahertz, abbiamo un problema, perché il fogliame, quindi la boscaglia, cespugli, eccetera, vanno a schermare il segnale. Quindi Quindi voi pensate di mettere un carro armato già sotto una foresta di conifere bella fitta e se di fronte avete un radar che opera sulle centinaia di megahertz, non riuscirete a vederlo, oltre che per problemi vari della foresta che risalta in un certo modo alle onde. Poi abbiamo problemi, come abbiamo detto prima già riguardo al suolo, abbiamo degli ostacoli fisici. Quindi dietro un palazzo, dietro una montagna, dentro un avvallamento, non riusciremo a vedere. I radar, come una storia militare insegna, come ogni tecnologia, dopo un po' riescono ad essere contrastate dai nemici. Quindi abbiamo delle vulnerabilità al jamming e ai missili anti-radiazione. Sicuramente ne conoscerete qualcuno, perché nella guerra in Ucraina se ne parla anche spesso. Mi pare che Mirko di Parabellum avesse fatto pure una live dove si parlava ampiamente degli AGM-88 Harm. AGM-88 Quindi tutti quei missili anti-radiation. Il bersaglio poi può capire quando è tracciato, quindi il bersaglio capisce di essere tracciato e tra l'altro il nostro bersaglio può anche trovare la sorgente del nostro radar e quindi questo mette a serio repentaglio la nostra stazione. Terzo problema, che ovviamente sarà quello a cui avete pensato dall'inizio, è che alcuni bersagli hanno un eco ridotto. Ovviamente pensiamo al B2, all'F117, all'F22, all'F35 e così via, e anche alcuni UAV. E questo dà dei problemi appunto in fase di schermatura del segnale, perché molto spesso, come vedremo, i nostri filtri andranno a scartare questi segnali. Di per sé non sono aerei invisibili ai radar e che hanno un eco di ritorno così basso che molto spesso i sistemi vanno a scartare appunto questi echi. Parliamo ora di alcune tipologie di radar. Radar, tipologie. Giusto per farvi capire un po' i campi d'applicazione di questa tecnologia. Abbiamo dei radar di sorveglianza. Sono molto spesso radar con un asimuth a 360 gradi, quindi interessa più che altro osservare un'ampia area e poi controllare tutti gli oggetti. Quindi sono molto spesso quei radar che troviamo sulle navi, sugli aeroporti, che controllano tutti gli oggetti nello spazio, perché appunto al controllo del traffico aereo interessa sapere, più o meno in tempo reale, dove si trovano tutti i velivoli per poterli incanalare sui percorsi più corretti. Ad esempio vi faccio due, un paio di esempi fotografici. Quindi passiamo di nuovo alle nostre belle foto. Quindi questo che vi sto per proiettare, quindi presenta, condividi schermo, finestra. Questo è il radar di sorveglianza all'aeroporto di Hertrov a Londra. Poi abbiamo, ad esempio, un altro radar, è giusto quello dopo, tra l'altro, che è un radar di sorveglianza, questa volta all'aeroporto di Foro. Questi radar sono spesso di grandi dimensioni e sono radar rotanti. Poi abbiamo i radar come quelli già visti prima. Mannaggia, ho perso la Biro. Ah, ci mancava proprio questo, non ho ritrovata. Quindi passiamo di nuovo al tablet. abbiamo i radar radar FCR come lo SCR 584 ed altri radar che servono appunto a Fire Control. sono dei radar che vanno ad individuare oggetti volanti nello spazio e che sono collegati direttamente con delle batterie anti-aeree, missilistiche di vario genere e vanno ad occuparsi di puntarle nella direzione corretta per far fuoco ed abbattere il bersaglio. sono molto spesso quei radar che vediamo anche in guerra, in Ucraina, se ne vedono anche tanti. Qua vi faccio vedere qualche foto, ma sicuramente li conoscete meglio di me dal punto di vista fotografico. Ne avrete già visti a palate durante questa guerra. Per esempio ci sono questi... scusate, stavo già passando oltre. e poi abbiamo tutta la serie di airborne radar. Quindi quelli avio imbarcati. Ad esempio avremo quelli dell'AWAX, quelli molto famosi. E perché, direte voi, dobbiamo utilizzare questo tipo di radar dell'AWAX? Ad esempio. Perché sappiamo bene, a meno che non siamo dei terrapiattisti, che pensiamo che esiste l'effetto Pac-Man nelle montagne di ghiaccio, che Hitler si è scappato in Antartide, la Terra, fino a prova contraria, è rotonda. E quindi per vedere lontano all'orizzonte devo elevarmi. Quindi portare un radar di controllo al suolo in altezza, quindi come su un aereo, ci permette di coprire un'area enorme, ad esempio nel raggio di migliaia di chilometri, e poter scrutare tutto il campo di battaglia, reperire queste informazioni, e passarle alle nostre truppe che stanno operando nell'area. E anche qua, in Ucraina, eccetera, si è visto anche il ruolo fondamentale svolto da aerei del genere, che vanno a scovare tutti i bersagli, anche senza entrare in spazi aerei, diciamo, pericolosi, dove ci sono attività belliche e permettono comunque di scovare le posizioni nemiche, eccetera. Poi abbiamo... Ah beh, questo è lo spaccato dell'antenna, interna all'AUAX, è un'antenna che opera sulla lunghezza d'onda di 10 centimetri, e poi dopo abbiamo anche altri tipi di aerei imbarcati, ad esempio questo qua, è un aereo della Gramman, il Joint Stars, l'E8C, che ha un'antenna radar, che è questa qua, ora cerco di zoomarvi, ciao Jacopo, ciao ciao, l'antenna è questa qua, sotto la pancia dell'aereo qua, e questa antenna va a controllare tutto quello che si trova al suolo, quindi sorvolando i campi di battaglia, questo va a vedere tutte le postazioni nemiche, quello che sta succedendo al fronte. Ah, questa non la fa vedere, mannaggia a me, vado un attimo a cercarvi altre foto, del campo aereo, ad esempio questa qua, ora non la vedete, mannaggia a me, devo fare così, di nuovo ripartire da zero, ecco qua, è un altro aereo molto simpatico, e l'E2C della Grumman, se non sbaglio mi pare che fu l'aereo su cui lavorò anche John, l'amico di zio Mike, l'esperto di aerei, grande ingegnere aeronautico, che fa sempre un lavoro similare, va a scrutare i campi di battaglia, e poi abbiamo degli esempi molto più, diciamo, attuali, ora la foto non me l'ha scaricata, vado a cercarla su internet, questa qua, quindi apri immagine nuova scheda, ok, condividi schermo, e Jacopo, ho accennato qualcosa, ai radar della seconda guerra mondiale, nella scorsa puntata, e nell'inizio di questa, e poi se ti interessa, avevo fatto un breve articolo, parlando di radar della seconda guerra mondiale, e lo trovi sul blog di Parabellum, ecco, questo è un radar imbarcato su un F-15, è un radar speciale questo qua, perché si tratta di un Faced Array Radar, che si occupa di fare scopi di surveillance, quindi controllare l'area di fronte al nostro aereo, fare tracking di nemici, ma al tempo stesso, grazie al suo Faced Array, che vedremo poi nella serie, che cosa significa, quali sono appunto i suoi vantaggi, può scrutare il campo di battaglia, infine abbiamo anche altri esempi, come ora, vedo di scovarvelo, mamma mia non trovo più la foto, comunque se andate a cercare su internet, anche la Leonardo ad esempio, ultimamente sta incorporando vari radar, nelle punte diciamo degli aerei, poi ci sono anche dei radar che sono sugli UAV, che permettono sempre di fare controllo, quindi abbiamo ad esempio dei radar come l'RQ4, ora vi cerco, vedremo che mi viene in mente, sicuramente il più famoso, quello della Northrop, questo simpaticone qua, che appunto si occupa di fare imaging del terreno, quindi torniamo un attimo al nostro tablet, quindi abbiamo detto Airborne Radar, e poi passiamo ai radar strumentali, i radar strumentali, ah tra l'altro Jacopo che mi avevi chiesto dei radar della seconda guerra mondiale, se vuoi guardare in descrizione al video, tra le fonti trovi un sacco di materiale sulle storie dei radar, c'è anche la storia di Leo Sullivan, che fu uno dei primi operatori dell'OSCR 584, che la cui biografia è stata registrata, e la trovi in descrizione alla live, è molto interessante, racconta anche delle questioni ad anzio, eccetera, del materiale piuttosto croccante, quindi parliamo di radar strumentali, i radar strumentali, servono principalmente a controllare delle azioni che avvengono in cielo, e sto parlando di, ad esempio, addestramenti militari, e operazioni in poligono, cioè se noi vogliamo testare il nostro missile aria aria, e farlo sganciare da un aereo in volo contro un bersaglio, vedere che cosa accade durante il nostro test di missili balistici intercontinentali, e cose varie, possiamo controllare le traiettorie di questi oggetti, tramite dei radar strumentali, che servono proprio a controllare l'efficacia, scriviamolo sul tablet, poi vi lascio poi tutto quello che scrivo sul tablet in pdf, lo sistemo giusto un attimo, e ve lo metto sul gruppo Telegram, così potete reperirlo tranquillamente, controllare test missilistici, oppure quando andiamo a sviluppare l'aereo diciamo a eco ridotto, vedremo appunto come si comporta utilizzando questi radar strumentali, ad esempio parliamo del modello, ora ve lo metto in foto, questo qua, cavolo si vede pure male purtroppo, condividi schermata, finestra, e questo signorotto qua, ora vedo di zoomarvelo un attimo, purtroppo si vedrà un po' pixeloso, e si tratta del modello RCA, RCA AN slash FPS 16 che è un radar della Lockheed Martin, è un multiple object tracking radar, utilizzato nei poligoni, ed è proprio lui, un radar strumentale molto utilizzato, poi abbiamo anche una serie di radar molto interessanti, e se vi capiterà di andare in vacanza nel Pacifico, ora fatemi scrutare un attimo le foto, se riesco a reperirlo, no, allora faccio un attimo che scaricarlo, scusate, pensavo di averlo scaricato, mentre mi facevo il brainstorming per la live, quindi parlo dei radar strumentali all'atollo delle Marshall, fatemi solo, eccoli qua, provati, salvo immagine con nome, ok, dovrei riuscire a proiettarvelo, abbiate pazienza, chiedo Venia per il casino, questi qua, sono dei radar strumentali, che sembrano dei funghetti carini, e se vi capita di andare in vacanza alle isole Marshall, sull'atollo di Cavagelin, troverete questi radar utilizzati per collezionare dati, sulla difesa missilistica, e operano più o meno sulle bande UHF e VHF, infine abbiamo ovviamente i radar che meglio conosciamo, e di cui sentiamo parlare, i radar civili, i radar civili sono quelli ad esempio utilizzati, che so, cavoli, ok, questo è un famoso esempio di radar civile, che è utilizzato spesso dai geologi, dagli archeologi, per sondare il suolo sottostante, abbiamo la trasmittente che è posta a terra, e poi dopo lo schermino di output, che sarà davanti all'operatore, che permette di vedere quali sono gli strati del suolo, e se ci sono oggetti, ad esempio nel sottosuolo, se dobbiamo cercare una tubatura, di cui non conosciamo bene il percorso, se dobbiamo ricercare la borsa di lingotti d'oro rubata dal rapinatore, oppure semplicemente fare uno scavo archeologico, e ricercare alcuni dei reperti. Poi abbiamo i radar, mi sembra di aver messo una foto da qualche parte, comunque i famosi radar della polizia. Ecco, questo qua è un altro radar di controllo, che trovate sulle torri di controllo, ed è un radar che in parole povere va a scrutare tutti gli oggetti bassi. Sono un sistema radar che si chiama SD4, Airport Surface Detection, e quindi serve a trovare in ambito civile tutti quegli aerei che sono vicini alla pista di atterraggio e poterli condurre in sicurezza a terra. Poi, prima sfogliando le foto, scusate se mi tocca, faccio fare tutta questa papardella di immagini, avevo visto questo signorotto qua, che è un ARSR4, questo è un radar di controllo aereo, poi abbiamo i radar meteo, come questo qua, che utilizzano un terminal Doppler per controllare le turbolenze agli aeroporti, spesso i microbarz, che sono dei fenomeni meteorologici che accadono e che possono essere molto pericolosi per l'atterraggio di un aereo, oppure per trovare un wheel shield vicino agli aeroporti, giusto per citare il famoso volo della Lufthansa, che ha fatto tanto parlare per le forme strane che giornalisti di serie Z hanno spacciato come rivolta dei piloti contro l'attore di controllo quando sono state tutte procedure fatte da manuale che casualmente hanno portato a disegnare una certa forma un po' volgaruccia sui cieli. Ecco appunto, qua intervengono questi radar per controllare il meteo, le turbolenze, tutte queste cose, poi abbiamo anche dei radar meteo del tipo WSR88 e il NEXGRAD. Vi faccio vedere un WSR88 e questo serve in meteorologia a controllare l'avanzamento dei fronti. I fronti sono praticamente delle grandi masse di aria che si spostano e vanno ad incontrarsi creando dei fenomeni temporaleschi dell'avversità meteorologica appunto di fronte e potremo poi parlarne quando faremo la nostra serie sulla meteorologia come già accennato abbiamo parlato delle masse d'aria e potremmo fare anche una puntata parlando dei fronti ma ovviamente siamo qua a parlare di radar. Quindi torniamo un attimo al nostro tablet per domandarci una cosa ma che cosa misurano in pratica questi beniamati radar? per fare questo dobbiamo fare un esempio quindi cerchiamo di disegnare quello che accade a grandi linee in un radar giusto per fornire le basi quindi facciamo un titolo grosso siccome cambiamo un po' capitolo che cosa cosa misurano ebbene se noi andiamo a disegnare in un grafico quello che accade ad un radar abbiamo sull'asse delle y la potenza quindi e sull'asse delle x sto cercando di fare nel mio meglio sull'asse delle x avremo il tempo in secondi la potenza ovviamente si misura in watt e noteremo che va a disegnarsi una forma una forma del genere che poi spiegheremo bene abbiamo la potenza che in un certo momento è a zero non viene emesso un gran fico secco poi avremo la potenza che sale che si mantiene e poi che scema quindi andiamo un attimo poi avremo un fenomeno di questo genere e poi dopo di nuovo un altro piccolo genere per passare e poi dopo qua avremo di nuovo un'altra cosa del genere e così via che cosa possiamo vedere da questo grafico innanzitutto cominciamo a dare delle definizioni la curva blu che vi ho disegnato quindi scriviamolo in leggenda si tratta del envelope cioè sotto questo envelope ci stanno delle sinusoidali che sono le onde che andiamo ad emettere perché le onde non è che sono quadrate così e questa è appunto l'envelop che vedremo poi di definire a tempo d'evito se guardiamo lato potenza quindi questo qua siamo d'accordo che la cima qua si tratta appunto di dell'impulso fornito salute scusate abbiamo che la potenza all'apice quindi questa qua si chiama la potenza al picco quindi in inglese peak power poi la durata dell'impulso quindi il sustain se vogliamo utilizzare un termine tecnico quindi quanto tempo dura il nostro impulso si chiama PL pulse length dall'inglese poi vediamo che ad un certo punto abbiamo questa ondina questa ondina corrisponde semplicemente all'eco che ha fornito il nostro oggetto perché ricordiamo abbiamo un radar di questo tipo qua ad esempio un radar con un'antenna direzionale che spara un'onda questa onda si muove in questo senso qua abbiamo il nostro aereo nemico mettiamogli la z che fa i russi e poi dopo dal nostro aereo nemico parte un'ondina molto più piccola facciamola più piccola che è l'eco quindi questo sarà il momento in cui ritorna il nostro eco se noi andiamo a misurare la variazione di tempo che sta tra due impulsi questa la definiamo con questo nome il PRI il PRI è il pulse repetition interval quindi PRI ora cerchiamo di dare qualche numerino per farci un'idea a grandissime linee di che valori assumono queste queste dimensioni qua che andiamo a controllare la potenza al picco può arrivare fino a un megawatt il ritorno quindi la potenza di ritorno del nostro segnale quindi ritorno qua non abbiamo scritto ritorno il ritorno può assumere potenze rendetevi conto se io vi spedisco un megawatt mi ritorna più o meno un micro watt quindi dovete capire a quali soglie di sensibilità deve operare il nostro radar un PRI è più o meno lungo un millisecondo un millisecondo mentre il nostro PL è circa dell'ordine dei 100 microsecondi quindi quindi questa è power envelope ok l'abbiamo scritto quindi che cosa possiamo cominciare a dire possiamo dare delle definizioni su delle dei concetti che tornano importanti nel mondo dei nostri cari radar cominciamo a parlare di duty cycle di si ora utilizzerò i termini inglesi perché sono quelli standard quando si parla nell'ambito comunque cercherò di tradurvi in italiano e si tratta di un ciclo di operazione quindi andiamo a dividere la nostra durata dell'impulso PL fratto il PRI quindi vuol dire durante un ciclo di radar quanto la nostra trasmittente sta accesa quindi questo è il tempo in cui la TX è ON e ciclo totale tempo del ciclo totale tempo ciclo totale spero che sia chiaro se non avete chiaro il concetto non esitate a far domande quindi quanto sta acceso il radar quanto è accesa scusate sta accesa la trasmittente ad esempio il 10% del tempo ad esempio possiamo avere un duty cycle di 10% in un radar la potenza media average power potenza media dannazione la nostra potenza media è la potenza al picco moltiplicato per il duty cycle per DC molto spesso la potenza media quindi la potenza media durante il PRI assume un valore ad esempio di 100 kilowatt poi definiamo la frequenza di ripetizione dell'impulso PRF peak repetition frequency il PRF è definito come 1 fratto il PRI poi abbiamo ad esempio dei radar come quelli della spoletta che abbiamo visto prima che si chiamano continuous wave CV radar la tx è sempre accesa la trasmittente è sempre accesa a questo punto ovviamente il nostro duty cycle sarà di 100% quindi il DC uguale 100% perché è sempre attivo e quindi qua abbiamo visto un attimo che cosa va a misurare il nostro radar quali sono le cose in campo poi ovviamente le cose si complicheranno tantissimo e ci sarà quasi una puntata per ognuna di queste di questi concetti che abbiamo espresso però è giusto per cominciare a darvi qualche concetto di base per comprendere che cosa il radar va a misurare ma che cosa osserva il radar abbiamo ad esempio torniamo qua col nero facciamo un piccolo esempio abbiamo un'antenna direzionale quindi qua e un'onda emessa disegniamola in blu questa onda emessa si muove in questa direzione quindi si allontana ovviamente dalla trasmittenta onda emessa poi avremo un bersaglio ad esempio un bel caccia rosso quindi il nostro segnale cerco di disegnare un caccia cosa non facile facciamo facciamo la cabina un po' come si può comunque questo è il nostro caccia scusate i disegnini che fan pena e abbiamo un segnale spedito indietro quindi questo si muoverà qua in questo senso eco quindi abbiamo una distanza che dalla trasmittente quindi da questo punto qua fino al muso del nostro aereo tutta questa distanza dannazione la definiamo come R0 e il range al tempo 0 quindi la distanza tra l'oggetto e la nostra trasmittente quindi cerchiamo di definire le leggi orarie del radar quindi leggi orarie definizione leggi orarie quindi sappiamo che appunto assumendo che il nostro aereo si muova verso il radar a velocità costante la legge oraria del range quindi R0 quindi la distanza tra l'antenna e l'aereo quindi R di T è uguale a R0 meno la velocità quindi questo aereo avrà una sua velocità velocità V uguale velocità bersaglio quindi tornando a noi abbiamo V per T quindi una velocità per tempo sapete benissimo che se V espresso come ds su dt lo spazio sarà velocità per tempo ovviamente cercherò di dare un po' per scontate alcune cose diciamo di fisica base perché se no non ne usciremo mai più quindi qua abbiamo il bersaglio il si avvicina questo è uno scenario in cui il nostro bersaglio si avvicina il segnale trasmesso nel tempo quindi st segnale trasmesso segnale avrà una legge oraria di questo genere s trasmesso funzione del tempo quindi st sarà uguale a di t quindi l'ampiezza del segnale per una funzione esponenziale di j due pi greco frequenza zero quindi una frequenza trasmessa di t mentre ora fate un attimo calma se non capite molto poi spieghiamo tutto il segnale ricevuto quindi s r quindi s r sempre funzione di t sarà un fattore a per l'ampiezza poi spieghiamo tutto t meno tau che moltiplica funzione esponenziale una roba di questo genere j due pi greco per f f 0 più f d d t così allora notiamo subito una cosa interessante dal punto di vista matematico che rispecchia un fenomeno fisico molto importante che cosa succede che il nostro segnale ricevuto come abbiamo visto prima qua il nostro segnale questo è s t e questo è s r s r è molto più piccolo quindi l'ampiezza di s r quindi questa è questa è l'envelop della potenza abbiamo che l'ampiezza del nostro segnale ricevuto sarà molto minore di quella mandata quindi bisogna moltiplicare per un dato fattore a che andrà a far diminuire l'ampiezza quindi il segnale ricevuto è attenuato il segnale è attenuato abbiamo un delay nel segnale ricevuto che è dovuto all'eco e il delay è espresso da tau non riesco mai a disegnare sta maledetta lettera e che cosa accade alla nostra frequenza effetto doppler fd e l'effetto doppler la frequenza cambia allora facciamo alcune considerazioni ora purtroppo dovete prendere qualcosa un po' per buono perché non possiamo spiegare tutto se non facciamo una live di 60 ore giusto per spiegare una formula quindi nelle prossime puntate ovviamente pezzo per pezzo andremo a snocciolare queste formule tutti questi parametri a capire che cosa significano come interagiscono e riportare tutto al caso reale cominciamo con dire che l'ampiezza del nostro segnale dipende da rcs la radar cross section quindi la sezione del radar e caratteristiche del radar e dell'antenna in secondo luogo avremo la asimov che dipende appunto scusate l'angolazione cretino che sono non abbraccio su sti temi non è mai semplicissimo perché uno ha sempre paura di perdersi qualcosa l'angolazione del nostro radar dipende dall'elevazione e asimov il delay è uguale a tau abbiamo detto però sta bene detta tau non è che ci piove dal cielo ed è definita come 2 r0 fratto c e c e la velocità della luce che ricordo ricordo importantissimo perché qua lo vedremo costantemente c è uguale a più o meno mi metto un valore molto semplice da ricordare senza troppi sforzi mentali a 3 exp o metri o metri al secondo quindi 3 per 10 alla 8 metri al secondo in notazione esponenziale la fd poi andremo a spiegare bene l'effetto doppler tra qualche istante la frequenza doppler quindi questo è definito così la frequenza doppler è definita come 2 d quindi un doppio della velocità del nostro caccia cattivo che ci sta venendo incontro per la frequenza emessa dalla trasmittente che ricordiamo abbiamo detto essere f0 quindi ricordiamo f0 questa sarà f doppler 2v per f0 fratto c che cosa succede che diventa 2v fratto lambda quindi la la lunghezza d'onda del segnale emesso questo perché f su c uguale lambda quindi questo scusate torniamo indietro facciamo le cose per bene f su c uguale lambda allora questa cosa dell'effetto doppler tra l'altro fu scoperta dal fisico ovviamente che si chiama christian andreas doppler e che cosa consiste e in che cosa consiste l'effetto doppler e poi prometto che lascio i vostri poveri cervelli riposare fino alla prossima puntata parliamo del doppler shift allora partiamo da un esempio del genere cerchiamo di fare un caso pratico e poi lo renderemo ancora più semplice perché mi ricordo già dai tempi del liceo in cui avevo una professoressa di fisica che tra l'altro capiva quanto può intendere il mio pollo che ho lì con le galline di fisica e spiegava piuttosto male non si era capito niente quindi cercherò di rendere la cosa più basilare possibile per cercare di essere compreso un po' meglio di quanto fosse la mia prof del tempo quindi abbiamo la nostra antenna direzionale che vedremo in tantissimi esempi nella serie la nostra antenna produce un'onda quindi non un'onda moto ma un'onda elettromagnetica vi piacerebbe avere la moto avrete solo un'onda elettromagnetica abbiamo un'onda del genere sto cercando di fare del mio meglio ma abbiate pietà in un poveraccio e definiamo due punti il punto mannaggia me che cavolo allora il punto A e sarà che pure il tablet è stanco e il punto B no per favore l'arancione lasciamolo ai titoli B che si trovano sulla cresta di un'onda allora quando abbiamo un'onda quindi anche una sinusoidale ad esempio quindi un'onda sinusoidale avremo appunto un'onda che ha questo cammino qua maledizione no quindi qua abbiamo l'asse delle x e qua l'asse delle y andiamo a definire quindi def arancione lambda per chi non lo sapesse lambda è praticamente la distanza tra due punti ad uguale altezza sull'onda quindi andiamo a definire un'altezza interna all'onda ovviamente un'altezza del genere quindi il punto A e il punto B la distanza AB quindi questa sarà definita come lambda questo vale per punti a uguale altezza sull'onda molto spesso nelle definizioni semplici che cosa vi dicono che la lunghezza d'onda è la lunghezza che intercorre tra due creste e due avvallamenti ed è perfettamente giusto quindi qua l'onda continua avremo di nuovo lambda comunque due punti ad uguale altezza sull'onda quindi A e B in questo caso del nostro esempio stanno a lunghezza a distanza lambda quindi lunghezza d'onda che cosa succede che noi abbiamo il nostro segnale trasmesso che si muove in questo senso abbiamo il nostro brutto caccia di Putin che ci arriva in questa direzione qua quindi cerchiamo di disegnare il nostro caccia che vogliamo intercettare che si muoverà a velocità v definiamo come r0 abbiamo detto prima la distanza che intercorre tra il nostro caccia cioè la nostra trasmittente scusate per arrivare al naso del nostro caccia quindi qua questo qua si chiama r0 che cosa accade che però il nostro caccia nel tempo si muove quindi disegniamo in grigio una seconda posizione del nostro caccia nemico quindi così c'è un diavolo allora il nostro caccia nemico scusate facciamo la z per prendere un po' in giro e avremo una posizione del nostro caccia posizione all'istante a t uguale delta t quindi è passato un po' di tempo da quando l'abbiamo osservato prima che cosa accade ora che ha quindi torniamo qua quindi immaginiamo una pallina che si trova senza finire in definizioni fisiche che ovviamente sono più corrette ma ci distanziano dalla realtà dobbiamo giusto fare passare un concetto cerchiamo di ricondurci al mondo reale giusto per farci un'immagine mentale molto più semplice lascia l'antenna a t 0 lascia la trasmittente a t 0 quando l'aereo è a r 0 quando quando è a r 0 quindi in questo istante abbiamo la che lascia l'antenna e l'aereo che si trova r 0 cosa accade arriva a in secondo luogo arriva al aereo dopo delta t quindi abbiamo detto che nel delta t il nostro aereo si è avvicinato di una certa di un certo spazio e ci troviamo ora all'istante t l'aereo si muove a velocità v quindi l'aereo non cerchiamo no aspetta smetto di fare le mie scritture da nerd che poi nessuno le capisce l'aereo si muove a velocità radiale quindi rispetto all'onda elettromagnetica la radiazione a velocità v si si muove a velocità v il periodo dell'impulso trasmesso è t il periodo il periodo del impulso è pari a t maiuscolo a t maiuscolo t dove se avete presente appunto il periodo quando si parla di onde dove sappiamo che la frequenza è 1 fratto t giusto ma sappiamo anche che c c la velocità della luce siccome le onde elettromagnetiche si muovono ovviamente a velocità della luce avremo che lambda la lunghezza d'onda quindi lambda uguale lambda ricordiamo uguale a b meno a sull'asse delle x fratto il periodo che è uguale a lambda f0 quindi a lambda lunghezza d'onda quindi b meno a per la frequenza fre ma mia sembra un dottore frequenza trasmessa quindi la velocità della luce uguale a lambda f0 nota bene una cosa una cosa molto importante che c per delta t uguale r0 meno v delta t che cosa sto dicendo qua che sia chiaro sto facendo un'uguaglianza tra due spazi sto dicendo che lo spazio che intercorre tra b e l'aereo che si è mosso a c delta t è uguale appunto al r0 quindi lo spazio iniziale meno lo spazio percorso dell'aereo quindi sto dicendo praticamente questo che r0 meno r r0 meno r uguale allo spazio percorso da b che è una cresta che parte in un istante successivo quindi spazio spazio percorso da b e un'identità da cui riesco a dedurre quindi deduco che il mio delta t quindi il tempo trascorso l'aereo si è mosso è pari a r0 su c più v il tempo quando a torna al radar t quando a t quando a torna quindi fa il suo percorso è uguale a lo definiamo come t a che risulta essere uguale a 2 r0 perché deve andare fino al punto e tornare indietro fratto c più v che cosa succede che il tempo quando v torna t quando stavolta b mannaggia sempre sto arancione quando b torna torna a radar e t b che è uguale a t più perché qua abbiamo l'effetto doppler quindi la frequenza aumenta 2 che moltiplica r0 meno vt poi vi spiegherò bene nell'esempio pratico fratto c più v ovviamente sotto che cosa accade con questo effetto doppler poi giuro che vi lascio andare perché tra un po' arriviamo a due ore di live mannaggia me effetto doppler facciamo di nuovo il nostro schemino iniziale che cosa accade semplicemente questo immaginiamo di avere la nostra trasmittente la nostra trasmittente che emette un segnale di questo genere ora disegniamo un'onda un po' più lunga così riesco a disegnare tutti i particolari che ci interessano per il caso pratico accade che la nostra onda va a incontrare l'oggetto A ad esempio il nostro aero disegniamolo come un quadrato perché è più semplice A che si muove A V A che cosa succede che quando l'onda incontra A l'onda doppler quindi l'onda di ritorno del nostro eco avrà questa frequenza qua una frequenza molto più alta si ho disegnato male l'onda scusate chiedo perdono ho già pena per i fisici che dovranno ascoltare questa questa live comunque f eco quindi doppler che cosa succede puniamoci in questa situazione qua abbiamo l'oggetto A quindi schematizziamo un attimo ci troviamo in questa situazione tannazione abbiamo l'oggetto A che si trova qua e si muove a velocità via abbiamo detto ora prendiamo tre punti sull'onda prendiamo qua così tre punti sull'onda che che sono a lunghezza d'onda lambda quindi tre picchi abbiamo questo picco qua questo qua quello giallo definiamo il picco rosso se me lo disegni fai piacere e il mio picco blu ricordiamo una cosa facciamolo un attimo in verde vabbè metti blu che sta meglio questa lunghezza è lambda ricordiamo che la frequenza elettromagnetica è influenza per lunghezza d'onda ecco quindi se parliamo di lambda che si avvicina parliamo di frequenza che aumenta ovviamente che cosa succede questo è l'istante t0 t0 che cosa succede nell'istante t1 a t uguale a 1 il nostro oggetto a quindi a ha percorso un quadretto in là di a così in questa direzione però la nostra onda elettromagnetica che viaggia a velocità della luce quindi considerevolmente più veloci dell'aereo avrà percorso due quadretti quindi questi si muovono sempre a distanza lambda quindi questo va qua e così via abbiamo il punto di contatto quindi il nostro terzo picco va a contatto e qua siamo nell'istante t uguale ad 1 a questo punto cosa succede a t uguale a 2 a si sarà mosso di nuovo di un quadretto il blu sarà tornato indietro ovviamente va a velocità costante velocità della luce si sarà mosso di due quadretti uno e due ora il nostro blu si trova qua però il rosso che va nell'altra direzione quindi il blu facciamo così così velocità della luce il nostro rosso si sarà mosso e sarà nella stessa posizione c così la velocità della luce ecco il nostro giallo sarà avanzato semplicemente di due quadretti e si troverà qua che cosa succede a questo punto istante t uguale a 2 istante t uguale a 3 che cosa succede questo sarà avanzato a via che cosa è successo che però appunto il nostro blu abbiamo detto che fa di nuovo due quadretti però sta tornando indietro al radar quindi questo è un eco quindi il nostro blu si trova qua facciamolo un po' più grosso il nostro giallo questa volta si trova dove passa il blu quindi le onde di eco e inviata si incrociano e il nostro rosso che cosa fa il nostro rosso andiamo nel dettaglio cosa succede che se io ho un quadretto qua e qua ho il bordo che cosa succede che questo va a velocità doppia e questo alla minima quindi più o meno qua c'è punto incontro quindi dovrò calcolare due quadretti dal punto di incontro che verosimilmente sarà qua il mio punto di incontro quindi un quadretto e due quadretti quindi qua ora avrò il mio rosso che ora torna indietro però non si posiziona più o meno a questo punto che cosa succede ora ho il blu e il rosso che si rincorrono a questo punto t uguale a 4 t uguale a 4 v a ovviamente sempre in qua t uguale a 4 che cosa succede che a questo punto il nostro giallo va a muoversi allora il blu ha fatto cominciamo dai facili per farvi capire il blu ha fatto due quadretti quindi ora il nostro blu si trova qua il nostro rosso lo segue quindi il rosso è qua e il nostro giallo che cosa fa il nostro giallo è il giallo appunto fa i due terzi del percorso arriva qua scusate prendo il giallo mannaggia e qua c'è il punto d'incontro quindi punto d'incontro 1 e 2 quindi il giallo ne risulta che ci segue a questa distanza questi sono sempre separati dalla medesima distanza ecco quindi questa e questa sono lambda 1 aspettate va abbiamo un pennino più fine perché mi sono andato in pellagare per niente a non pensare prima che misure fare e finire nel piccolissimo lambda doppler e lambda doppler lambda doppler che cosa succede e quindi queste saranno le creste della nostra onda quindi avrò un'onda del genere quindi scenderà risalirà e risalirà quindi qua avrò l'azzurro l'azzurro il rosso e il giallo e l'onda si muove in questa direzione qua mentre all'inizio la nostra onda ricordiamo era questa qua vi rendete conto che abbiamo scusate mannaggia deve sempre succedere un casino qua perché se no non è giornata questa era la lambda iniziale lambda zero potete fare un esempio molto pratico se immaginate questo siete con dieci amici fate la gara di corsa al secondo zero parti tu corri cento metri verso il bersaglio tocchi il bersaglio ma nel mentre il bersaglio si muove verso di te parte dopo dieci secondi il tuo amico tocca al bersaglio e torna indietro parte il terzo amico parte il quarto vedrete che la distanza con cui siete dilazionati mentre vi dirigete al bersaglio è molto molto più grande di quella che avete mentre tornate ovviamente perché il bersaglio si muove e se noi andiamo a calcolare in fisica gli effetti appunto del doppler quindi come varia la frequenza noi riusciamo innanzitutto a capire se l'oggetto si allontana o si avvicina verso di noi e calcolare qual è la sua velocità verso di noi quindi l'effetto doppler consiste in questo e l'ho avvertito ogni volta che come detto prima vi passa vicino un'ambulanza un camion di pompieri la polizia sireno spiegate allontano la sentirete grave più si avvicina più è acuta più si allontana di nuovo diventa grave in questo caso abbiamo fatto il caso dell'avvicinamento ma potete provare a casa tranquillamente a fare lo stesso esempio con le palline e provare a vedere che cosa succede ad esempio se A si allontana vedrete che accade l'esatto opposto aumenta la lunghezza d'onda quindi facciamo delle considerazioni sul doppler e poi vi lascio a casa ancora 5 minuti considerazioni sul doppler shift allora se il periodo del segnale trasmesso è T T periodo do il periodo è semplicemente questa cosa qua se noi abbiamo la nostra onda sull'asse dell'y e qua abbiamo il tempo il periodo è quanto ci impiega l'onda a fare il suo ciclo se la nostra onda è questa qua il periodo sarà appunto questo T questo qua è il periodo per ritornare a se stessa perché qua se la ridisegno avrò di nuovo un T vedete che l'onda è divisa in parti uguali e T se il periodo del segnale è trasmesso e T e l'eco ricevuto si avrà tr ricevuto quindi quindi dell'eco ecco si avrà una cosa del genere che chi ricevuto quindi quello dell'eco questo è l'eco eco tr uguale T quindi T maiuscolo che moltiplica appunto C meno V C meno V V ricordate è la velocità del nostro bersaglio quindi in questo caso l'aereo russo cattivo che ci viene incontro più C più V quindi questo è il nuovo periodo quello che trovate appunto qua questo è un periodo per esempio periodo TR quindi la frequenza ricevuta frequenza ricevuta quindi dell'eco è uguale alla frequenza zero quindi quella inviata che moltiplica C più V per C meno V e siccome il periodo è il reciproco come abbiamo detto sopra che sarà uguale appunto riscritto in un'altra maniera avremo linea di frazione è sopra 1 più V su C fratto 1 meno V su C ecco spero che sia abbastanza chiaro però che cosa accade che se noi abbiamo detto all'inizio che 3 quindi C uguale a questa misura un aereo che invece si muove a 1000 km orari quindi 1 per 10 alla terza vedete che sono esponenti di ordini di grandezza molto diversi quindi abbiamo per delle velocità che sono molto minori di C come quella di un aereo diventa questa scrittura diventa 1 fratto 1 meno V su C che è uguale alla serie approssimata serie approssimazione in serie del tipo 1 più V su C meno V su C al quadrato più eccetera eccetera quindi la nostra serie di approssimazione e quindi se ne ricava che praticamente la frequenza sempre approssimata quindi ricevuta approssimata è uguale circa proprio non nei particolari ma comunque con buon grado di affidabilità a F0 più 2V quindi del bersaglio fratto C su F0 di conseguenza la frequenza del Doppler FD quindi quella dovuta all'effetto Doppler è uguale a uguale a più 2V per C su F0 scriviamolo così perché sta più ordinato F0 che è uguale a 2V su lambda quindi FD sempre nel caso in cui la velocità dell'oggetto controllato è molto minore a quella della luce si può dire che un certo grado di accuratezza è uguale a 2V fratto lambda del segnale emesso questo dobbiamo inquadrarcelo bene nella testa che tornerà utile nelle prossime puntate detto questo io devo andare a bere perché ho già la gola secca e ci sentiamo un po' più tardi e c'è scusate sto già dando i numeri come se non li avessi dati fino adesso ci vediamo nella terza puntata di questa serie in cui procederemo con l'analisi di cosucce interessanti riguardo al radar detto questo detto tutto vi saluto ricordate di dare una bella l'occhiatina alle fonti qui in descrizione che troverete delle storie molto molto interessanti per gli appassionati di tecnologia e storia militare detto questo ho quasi due ore di live credo che possiamo salutarci e darci la buona serata ciao ciao